Benvenuti in questo nuovo video ragazzi Soprattutto ben ritrovati Questa sera voglio portarvi un discorso un po' diverso dalle solite notizie Quello sarà il prossimo video che uscirà giovedì Oggi ci dedicheremo un attimo alla situazione Napoli Stagione 2024 Purtroppo si Situazione fallimentare Scusatemi 2023-2024 Situazione fallimentare Purtroppo faccio fatica anche a parlarne Però è giusto e doveroso dire un attimino delle cose al riguardo Al riguardo non solo a parer mio De Laurentiis ma anche ai calciatori Quindi ragazzi non voglio perdermi in chiacchiere Non voglio dilungarvi troppo Partiamo subito con il video Iniziamo col dire che è solo colpa di De Laurentiis Infatti ho messo questo sfondo proprio perché per il vil denaro De Laurentiis diciamo ha rovinato una macchina perfetta Ma c'è anche merito purtroppo dei calciatori in tutto ciò Perché è vero Non so se avete visto le dichiarazioni di Lozano Ma noi ve lo diciamo da ormai due anni Che De Laurentiis aveva in mente di abbassare il tetto in gaggi A un massimo di 3 milioni 4 milioni proprio esagerando per i top player Io dipendente Ragazzi se non mi conviene L'azienda dove sto attualmente Perché prendo ad esempio 1000 euro Vado a cercarmi un'altra azienda Che me ne offre 1500-2000 E a quel punto Alzo i tacchi E me ne vado Ma questo che vuol dire ragazzi Che i calciatori del Napoli Quest'estate Nessuno ha avuto proposte decenti Nessuno ha avuto proposte decenti A parte Zielischi che ha rifiutato l'Arabia Saudita Ozyman che ha rifiutato l'Arabia Saudita E Lobot Quest'estate Sono le uniche tre offerte Arrivate al Napoli Unico calciatore Che ha avuto realmente offerte Già quest'estate Era Elmas Sempre dall'Ipsia Rifiutata da De Laurentiis Perché non ha avuto il tempo di sostituirlo Ma al di là di tutto ciò È da apprezzare secondo me Il comportamento di Lozano Lozano Per scelta Diciamo Della società Ma soprattutto per scelta personale Ha cambiato aria È andato Dove si giocava titolare Ma soprattutto Dove il progetto ad esempio Societario Olandese Gli permetteva di prendere 4 milioni Quei 4 milioni devono essere sempre Quindi ragazzi Non ci facciamo Ingannare Dal bell'aspetto dei calciatori Perché a parer mio E ribadisco E sottoscrivo Se io dipendente Non mi trovo bene in questa azienda Me ne vado No Che mando il mio procuratore A parlare Non voglio fare nomi E a dire È una società Di scontenti Così ecco lì E no caro mio Lo puoi fare imboccare Diciamo ai tifosi Che giustamente Non sanno le cose Ok Ma i tuoi assistiti hanno mercato Non penso proprio Politano Non ha mercato Di Lorenzo Non ha mercato Né soprattutto Ahimè Mario Rui L'unico che ha mercato Paradossalmente È Gaetano Ma sempre Parlando di prestiti E cifre risorie Quindi ragazzi Questo dal punto di vista Personale Mio Poi non so voi Con questo aspetto So Pro ADL Ma fatto sta Che io non Difendo De Laurentiis Per il comportamento Avuto Perché ribadisco Per il denaro Per la mania Di protagonismo Che lo è perseguita Non ha saputo Gestire al meglio Questa situazione Che gli poteva fruttare Il triplo dei soldi Che Ha guadagnato L'anno scorso Ok Soprattutto rendendo La rosa Al meglio Quindi Le colpe Sicuramente Sono De Laurentiis Al 101% Ma gli metto Anche un bel 70% Ammontante Ai calciatori Gli allenatori Purtroppo Sono quel che sono E quindi La colpa Va A De Laurentiis In questo Direttore sportivo È quel che La colpa Va a De Laurentiis I miei calciatori Scendono loro in capo Se io sono scontento Non voglio andare A lavorare Me ne vado Non mi conviene Me ne vado Come ha fatto Ad esempio Elmas A gennaio Se ne è andato In questo Non voglio perdermi In altri chiacchiere Vi lascio L'audio Della fonte La conseguenza Di quando Si è partito Da dopo lo scudetto Dopo lo scudetto È disastro totale Quindi Andiamo un po' a ritrosi Per arrivare ad adesso Perché tu stai già parlando Di adesso Ma devi parlare Di un ritroso Quindi Significa questo Hai preso Un DS Che Era fuori dal giro Da un pezzo E non era adatto Uno Si è presentato Un meruso Due In più Si è fatto consigliare A Sabatini E che si è andato A Gesambrit E riappigà Rudy Garcia Un altro allenatore Bollit E esonerato Anche negli Emirati Arabi Arabia Solito Quel che cazzo sia Due Tre Mercato A di poco Scadente Dove io denunciavo Questo già dal mese di settembre Quindi a mercato finito Io andavo denunciando Questo che si è presentato Negli ultimi dieci giorni Di mercato Con giocatori da 10 milioni Nathan Caio Stagenda Logica Come vedi Non è servita A un emerito Cazzo Bene Poi è iniziato Con gli allenatori E manda via Garcia Perfetto Depitiato a chi Mazzarri Non chiudi Tudor Ma prendi Mazzarri Ovviamente Un allenatore Altro allenatore Svingolato E bollito Va bene Mandi via Mazzarri Perché è risultato Ovviamente Da lì Arriva il suo calzo Grande gioco Grande questo Grande che là Beh Il grande calzo Purtroppo si è dimostrato Un allenatore Non da Napoli Ovviamente Cioè purtroppo è un buon allenatore Ma cioè lui ha costruito la sua carriera Facendo il secondo Punto Cioè è tutta una conseguenza Di ciò che tu sei andato A fare In estate Dal dopo scudetto Ad oggi È una conseguenza Adesso ti ritrovi con questi disastri Punto Una squadra che probabilmente Non si qualifichi i cop Sordo che ne hai perso Per cosa? Per non fare le cose come si deve O pensare di dire Che la squadra Poteva essere allenata pure a me Cioè da tutti Ma che cazzo dici? Hai detto bene il fatto di Giuffredi Giuffredi Gli calciatori non avevano mercato Assolutamente no Ecco perché sono ancora lì Sono giocatori che ormai Purtroppo hanno fatto il suo tempo Ma lì tu parli di lui Tu parli di Lorenzo Tu parli di Polità Tu parli di 30 anni però Non c'è più piccina di 30 anni È forse lunga età Lui più giovane Ma Su popolo Sicilia Li vuoi più Quindi Abbiamo queste problematiche Quindi Ripeto È tutto un concatenarsi Che adesso È venuto fuori Tutta la merda Finalmente Con quest'audio ragazzi Vi lascio Ma soprattutto vi aspetto Nei commenti Per capire Voi cosa Realmente ne pensate Soprattutto se ho detto Qualcosa di sbagliato A parer vostro Ma vi posso anche Lasciare con Il senno di voi Che tra qualche giorno Scopperà la bomba La bomba in casa Napoli Quindi tenetevi pronti E restate connessi Quindi attivate la campanina Sul canale Ci vediamo Al prossimo video Chissà Con il prossimo allenatore Già in panchina Un saluto Lo aiuto Lo aiuto Un saluto